A Ponte Cagnano, Faiano, ieri sera, poco prima della mezzanotte, si è verificato un incendio in un capannone abbandonato, in pratica, in un ex pastificio in via Budetti. L'edificio è in stato di abbandono da anni. I caschi rossi sono intervenuti subito sul posto per spegnere il rugo, a sprigionare le fiamme del relativo cattivo odore dei rifiuti all'interno dell'ex fabbrica. Per fortuna, nel giro di pochi minuti, i caschi rossi sono riusciti a spegnere l'incendio. Non sono stati riscontrati danni strutturali a svolgere le indagini del caso i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Vitantonio Sisto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è probabile, visto che l'incendio si è verificato a tarda serata e considerando anche le temperature fredde, che quel capannone abbandonato sia ricovero di senza tetto che hanno acceso un fuoco per riscaldarsi e poi sono scappati. Questo aspetto potrebbe far aprire una riflessione da parte degli organi preposti a svolgere una verifica sui senza fissa dimora che abitano per strada nelle città più importanti e densamente popolate della Piana del Sele e della provincia di Salerno.